Ciao da Apsim, nuovo nome di calciomercato per la Juventus, anche se è un andare un po' a rispolverare un nome che era già stato fatto, quello di Niccolò Zagnolo. E quindi Zagnolo che viene messo in vendita dalla Roma, questa è una notizia sicura, la Roma vende Zagnolo per finanziare il proprio calciomercato, anche perché con Zagnolo altrimenti sarebbe stato necessario fare il rinnovo per evitare di perderlo a zero e quant'altro. Ed è stata fissata anche la cifra, vogliono 50 milioni di euro, cash, no contropartite a quanto pare, si potrebbe anche valutare qualche formula particolare, però a livello di compenso, a livello di valutazione, di prezzo, parliamo di 50 milioni di euro. Per Niccolò Zagnolo, un giocatore che era partito benissimo, esordendo addirittura in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, dopo essere stato convocato da Mancini senza avere ancora una presenza in Serie A. Poi ha giocato tanto in Serie A, si è infortunato, si è rotto due volte il crociato e questo è un dato molto importante. La stagione scorsa, intesa come 20-21, Zagnolo l'ha saltata praticamente per intero, completamente. Questa stagione ha giocato, ma sicuramente non è stato un crack, non ha fatto una stagione strepitosa. E quindi 50 milioni andrà bene alla Roma perché deve monetizzare, perché deve incassare e deve prendere il massimo da una cessione importante per un giocatore importante per la Roma, ma non va bene a chi lo deve comprare. Mi sembra una cifra veramente esagerata in questo momento per Zagnolo. Zagnolo ci può stare 50 milioni nell'ottica di quello che potrà fare domani. Quindi, come al solito, il discorso sulla valutazione di un giocatore è molto spesso legato al, anzi, praticamente sempre legato al futuro. Compie un giocatore non tanto per quello che vale oggi, ma per quello che potrà valere domani e per quello che potrà dare domani e quindi negli anni successivi. Ovviamente con un coefficiente, possiamo dire, che va parametrato anche in base all'età, naturalmente. Quindi un giocatore di 30 anni ha meno futuro di un giocatore di 20 e vai con le banalità. A parte questo, non penso che però Zagnolo valga attualmente 50 milioni neanche in termini potenziali, perché dobbiamo farci un po' un giro per l'Europa. Gli esterni di fascia, i trequartisti, i fantasisti, veramente forti, costano sui 40-50 milioni. Non ci sono più prezzi da 100 milioni per giocatori di quel tipo lì. 40-50 milioni. E qui dobbiamo comprare Zagnolo 50 milioni, mi sembra veramente fuori mercato, un prezzo fuori mercato. Zagnolo sarebbe da 30-35, secondo me, in questo momento. Poi non faccio io i prezzi, però da Juventino mi darebbe un po' fastidio se la Juve pagasse effettivamente 50 milioni per Zagnolo. Non credo che succederà perché Zagnolo è un discorso di mercato probabilmente da attendere con calma. Cioè, dobbiamo vedere che cosa succede nelle prossime settimane e ci potrebbero essere dei nuovi risvolti. Siamo al 4 di giugno, quindi è un po' presto. Tra un mese comincia il ritiro, eh. Questo poi è il discorso che vi faccio tra un attimo su come la Juve sta impostando il calcio mercato. Però c'è tempo, diciamo, ci sarebbe tempo per la trattativa per Zagnolo. Sperando che questo tempo però si esaurisca comunque prima del ritiro, perché è assolutamente fondamentale, in un'estate senza competizioni internazionali e con già mercato fatto in inverno, che venga consegnata la rosa definitiva, non uno di più, non uno di meno, ad Allegri al giorno zero di ripartenza della prossima stagione. E dopo parliamo di questo. Quindi non credo che la Juve andrà a spendere 50 milioni per Zagnolo, anche perché non abbiamo, secondo me, 50 milioni da spendere solo per Zagnolo. Secondo me il budget del mercato della Juve è tra 30 e 50, però non puoi prendere un giocatore solo. E parlo di queste cifre perché il tesoretto dell'aumento di capitale è stato investito tutto a gennaio per Vlaovic e Zakaria, con una parte già di compensazione derivante da Kulusevski e Pentancur. Poi ci sarebbe forse il riscatto di Demiral da parte dell'Atalanta, che però è incerto, ma è anche vero che questi soldi li abbiamo già investiti per esempio per riscattare Chiesa e forse dobbiamo riscattare preventivamente Ken per andarlo poi a rivendere. Nel frattempo abbiamo preso anche Gatti e c'è qualche movimento da fare tra Kostic, il terzino, quindi davvero non credo che la Juve possa accettare una cifra simile. Quindi poi si vedrà se nell'eventuale asta o comunque nel duello tra Juventus e Milan per Zagnolo prevarrà la pretesa della Roma o l'offerta di Juventus e Milan che naturalmente tenderà ad essere più bassa. Il problema è un altro ed è quello proprio legato alla progettualità e poi diciamo il discorso sulle tempistiche di calcio mercato. Si dice che la prossima stagione la Juve voglia fare il 4-3-3, quindi si stia impostando il mercato su un modulo, su un assetto tattico scelto dall'allenatore prendendo giocatori funzionali. Questo sarebbe fantastico, sarebbe la prima volta, qualcuno sempre dovrebbe spiegarci perché Sarri e Pirlo non hanno potuto minimamente beneficiare di una programmazione fatta in questo modo, quindi di un mercato fatto in maniera seria così, anzi, gli hanno remato contro, gli hanno fatto mercato controproducente, però meglio tardi che mai. Non è che vi metto a dire qui no, visto che non l'avete fatto a Sarri e Pirlo non lo dovete fare neanche ad Allegri. E no, iniziamo a farlo, iniziamo a farlo meglio tardi che mai, anche se non giustifico, non capisco il comportamento precedente. Ma il 4-3-3 non ce l'avevamo già, cioè nel momento in cui si è fatto male Chiesa, però intanto ce l'hai, e hai comunque ancora Kulusevski, hai un assetto da 4-3-3, con Dybala che può giocare anche al centro dell'attacco, mettendo magari Morata defilato, visto che Morata non riuscivamo a farlo giocare al centro dell'attacco, visto che Morata non è un centravanti, qualcuno dice, poi nella Spagna gioca puntualmente centravanti e segna puntualmente da dentro l'area di rigore, faccia al portiere che a stento deve stoppare, altrimenti gli basta tirare segna perché lo mettono nelle condizioni ideali di giocare e quindi non è un problema, non è un problema di Morata che a me non piace, non vedo l'ora che se ne vada per sempre, ma comunque bisogna anche dire che è stato messo in pessime condizioni quest'anno, e quindi era già un assetto da 4-3-3, poi ovviamente c'era Quadrato, c'era anche Bernardeschi, però avevi gli esterni. Infatti io cosa ho detto quando c'è stato il mercato invernale? Ho detto per me è un mercato da 6, e giù insulti, fischie, pernacchie, per me, perché dovevo dire che il mercato era come minimo da 8, e si è visto col mercato da 8 che abbiamo fatto. Senza Vlaovic la Juve manco in conference andava. Se togliete i gol di Vlaovic, la Juve non sarebbe andata neanche in conference league. Poi ovviamente non sapremo mai come sarebbe andata, ma tendenzialmente possiamo dire che avrebbe avuto grossa difficoltà a prendere il quarto posto, ok? Quindi da un certo punto di vista l'operazione è stata anche vantaggiosa, direi determinante. Però non era un mercato da 8, né da 9, da 10 ci mancherebbe, perché io dissi ci siamo indeboliti sugli esterni. A centrocampo non ci siamo nettamente rinforzati, perché vi dissi io ho qualche dubbio che Zakaria sia nettamente più forte di Bentancur. E infatti, chi è più forte da Zakaria e Bentancur ad oggi, vedendo cosa ha fatto Bentancur al Tottenham e cosa ha fatto Zakaria alla Juve, ma va bene, su questo mi taccio, lasciamo stare. Perché poi si dirà, però poi si è fatto male McKennie, quindi va bene, lo stesso Zakaria è stato infortunato. Ma soprattutto, quindi non ti sei rinforzato a centrocampo centrale, ma ti sei completamente indebolito sugli esterni. E quindi questo ha messo in difficoltà anche Allegri, cosa che ho detto quasi solo io, mentre poi gli Allegriani non fanno altro che dire come ti permetti, lo critichi troppo, Allegri è un grande allenatore e gli attribuiscono trofei immaginari, ma oggettivamente è stato messo in difficoltà nel mercato invernale. Perché gli hanno fatto un mercato che lo ha costretto a dover lavorare quasi da capo o modificare molto il lavoro che aveva impiantato fino a quel momento, oltre a non poter più fare, a non poter più giocare come assetto così come aveva giocato fino a quel momento. E adesso dobbiamo fare magicamente il 4-3-3. Ma se dovevamo fare il 4-3-3, perché non abbiamo tenuto Kuluseski? Perché diamo via Kuluseski, azzeriamo i nostri esterni e poi diciamo, no ok, facciamo il 4-3-3. Perché semplicemente si doveva silurare Dybala, perché non consente di fare il 4-3-3 e quindi liberatici di Dybala, finalmente che bello facciamo il 4-3-3. E con quali giocatori? Se Di Maria salta, come sta salta, come salta, come probabilmente salterà, quale sarà la seconda scelta? Ma io non voglio neanche aspettare che salta Di Maria. Io voglio che, vorrei, vorrei, perché qui a pretendere si viene presi per interisti e poi si rimane soprattutto delusi. Vorrei che la dirigenza avesse un nome alternativo a Di Maria adesso, non dopo che Di Maria ti ha detto di no. Mi direte, ma che ne sai che non ce l'hanno? Ma infatti mi auguro che ce l'abbiano. Lo vedremo però dalle tempistiche se ce l'hanno o no. Io credo che non ce l'hanno. Magari mi sbaglio e spero di sbagliarmi. Se Di Maria non viene alla Juve, chi viene? Chi sarà il giocatore che prendiamo al posto di Di Maria come ala destra? In attesa di Chiesa, tra l'altro. Il quale Chiesa, tra l'altro, e scusate la ripetizione, è un po' un pacco postale, perché mi pare che si stia costruendo la squadra per il 4-3-3, contando sul fatto che Chiesa può giocare sia a destra che a sinistra. Però non si è deciso chi Chiesa gioca a destra, chi Chiesa gioca a sinistra, perché se io sento Di Maria e poi Kostic, che giocano su due fasce opposte, capisco che Chiesa giocherà un po' dovunque. Poi parliamo anche di Kostic, che il livello di giocatore è? Ma questo ve l'ho già detto. Quindi, a livello di progettualità, ci può stare finalmente di scegliere un modulo, anzi sarebbe fantastico di scegliere un modulo, un assetto, e vai a prendere i giocatori da mettere in quelle caselle lì. Ma non mi pare che la società stia facendo questo, e Zaniolo, in tutto questo, cosa c'entra? Cosa c'entra Zaniolo? Non può essere l'alternativa Di Maria, non può essere. Zaniolo può essere al massimo un sostituto di Di Bala, ma il sostituto di Di Bala, allora vuol dire che non fa il 4-3-3, vuol dire che non aveva senso mandarlo via. Perché se devo sostituire Di Bala con Zaniolo, mi tengo Di Bala qualche altro anno, aspetto che magari cresca su Le, o lo faccio crescere insieme a Di Bala, facendogli fare 15-20 partite stagionali, e poi Di Bala posso anche mandarlo via. Oppure gli rinnovo il contratto Di Bala, lo tengo un altro anno, gli faccio anche fare il capitano, quello che volete, e poi nell'estate 2023, anche alla luce di quello che ha fatto nella stagione, col mondiale, eccetera, lo vendo e ci faccio un po' di cash, dice ma chi te lo paga? Quanto te lo pagano? E 30 milioni, che sarebbero pochi, sono sempre più di zero. Sono sempre più di zero. Cioè tutto questo perché non si potevano mettere a bilancio 13 milioni per Di Bala, 14 milioni, 15 milioni di stipendio lordo per Di Bala. Ci hanno sbandierato la storia della sostenibilità, ragazzi, vi rendete conto quanto ci prendono in giro? Non si poteva investire su Di Bala neanche al costo di poi incassare qualche cosa di guadagno l'anno successivo e gli anni successivi. Capite quanto è poco lungimirante questa società? Quanto è soggettiva nelle valutazioni? E quindi Di Bala non si poteva tenere neanche appunto a recuperare l'investimento vendendolo dopo avergli fatto il rinnovo, però possiamo prendere Zagnolo che occupa all'incirca una casella tattica simile all'incirca, ma che certamente non ti consente, non ti facilita nel fare il 4-3-3. E poi appunto giocatori di grosso potenziale come Ake e Sulee verranno integrati nella prossima stagione. Cioè c'è una strategia anche per loro? E in tutto questo dicevo, al di là dei nomi che stanno ballando, che non si capisce nulla, che ancora si scrive in attesa dell'ufficialità di Pogba e Di Maria tutti i giorni, siamo in attesa dell'ufficialità che poi forse firma solo Pogba, ripeto, io credo che Di Maria sia ormai quasi del tutto saltato, e me lo auguro pure, ve l'ho già detto, se Di Maria non viene ma se salta pure Pogba, di risate me ne faccio, però sono contento. E ringrazio addirittura Agnelli. In attesa di questo, la cosa fondamentale, ripeto, ripeto, non uno di più, non uno di meno, è arrivare al giorno zero del ritiro con la rosa fatta e finita. Cioè deve succedere che si fa male qualcuno nella preparazione, oppure si crea un'occasione particolare di mercato, cioè il 15 di luglio arriva un'offerta clamorosa per McKennie e vendi McKennie e dici ok abbiamo venduto McKennie, quindi siamo dovuti intervire e adesso compriamo un altro centrocapista. Deve succedere questo, ma rispetto alle scelte fatte di propria iniziativa dalla dirigenza, dalla società, deve essere tutto finito entro quando è il 4 luglio che si riunisce la Juve, 4 luglio, un mese, fine. Il mercato deve durare questo mese, cioè prima di iniziare, perché parte il primo luglio, ma è chiaro come ben sapete che le operazioni le puoi definire e confezionare pure prima e poi depositi i contratti successivamente. Lo stanno facendo tutti quanti, lo stanno facendo tutte le società. Quindi quella è una cosa fondamentale. Non vengano a dire che serve tempo per prendere questo, quell'altro, due mesi l'anno scorso per prendere Locatelli, perché non voglio scuse poi, non voglio alibi che si comincia la stagione e Allegri comincia a dire ho lavorato sette giorni con questo, dieci giorni con quello, venti giorni con quell'altro, il jet lag perché siamo andati negli Stati Uniti e fa troppo caldo, è stato fatto tanto mercato, i giocatori nuovi si devono integrare, e c'erano metodologie diverse, cioè tutte chiacchiere, non voglio alibi, non voglio scuse, dategli la squadra fatta e finita al giorno zero, così vediamo effettivamente alla stagione della prova del nove, che per me non ce n'è proprio bisogno, va bene, però hanno deciso di farla e cioè per capire effettivamente di chi è la colpa che le cose vanno male e vediamo allora come vanno le cose. Mettiamo quindi Allegri nelle migliori condizioni, con i giocatori che vuole lui, ma al momento giusto, così ci lavora dal giorno zero e dopo non ci sono più scuse. E dopo effettivamente vediamo, abbiamo il riscontro effettivo. Anche se vedo tanta esaltazione preventiva, come se la Juve fosse già scritto che farà una stagione migliore della precedente, io invece sono convinto che sarà una stagione peggiore. Al massimo uguale, cioè zero titoli, con eliminazione non oltre gli ottavi di Champions, difficoltà a qualificarsi per la Champions successiva e tra l'altro senza giocare manco la Supercoppa Italia. Mia sensazione, spero di sbagliarmi, anche se, e l'ho già detto, spero che non si vinca lo scudetto. Ci credo veramente poco, credo che il rischio sia bassissimo, ma spero che non si vinca lo scudetto perché non voglio che questa dirigenza e questo allenatore si ritengano autolegittimati sulla base di un nulla che può essere uno scudettino rivinto, magari senza fare nulla a livello di proposta di calcio, magari senza essere competitivi in Europa e con tutte le chiacchiere e le bagianate veramente insopportabili che abbiamo già dovuto tollerare in questa stagione. Però questo è un altro discorso. Mi prima soltanto sottolineare che sul mercato la Juve è in confusione, chiaramente in confusione, poi spero di sbagliarmi anche su questo, e anche abbastanza in ritardo. Grazie per la vostra attenzione, seguiranno naturalmente aggiornamenti di mercato, sperando un po' più consistenti e entusiasmanti anche, per esempio, prendetemi Christopher Nkunku, nessuno si farà male, la butto lì un nome, like al video se vi è piaciuto e buon dibattito nei commenti, ditemi come la pensate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi a questo canale per sfruttare tutti i vantaggi a partire da 99 centesimi al mese, per esempio la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita e l'accesso alle chat riservate sul mio server Discord. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!